Ciao, sono Federico di Motoavventure ed in questo video ti parlerò del nostro bellissimo viaggio di gruppo in Grecia. La Grecia continentale ti regalerà un labirinto di strade ben tenute e di paesaggi mozzafiato su montagne, valli, golfi ed isole. Attraverserai l'attica e giungerai fino al Peloponneso, lungo un itinerario che si snoda completamente su ottime strade secondarie, sempre accompagnato da un delizioso clima mediterraneo. Con noi di Motoavventure scoprirai testimonianze di un passato che ha fortemente influenzato la nostra cultura e sperimenterai l'essenza di un popolo accogliente, nobile e fiero, figlio di un territorio selvaggio e bellissimo. Prepara la tua moto e placca la tua voglia di viaggiare. Parti con noi!